C'è grande entusiasmo, auspici largamente positivi su questa edizione 2024 di Vinitaly che potrebbe consolidare anche la sfida dell'innovazione che l'Irpinia, che a grandi qualità, sta portando avanti. Ma c'è un grande entusiasmo al quale si accompagna, è doveroso dirlo, anche una crescita dell'immagine del Consorzio di tutela dei vini da quando c'è stata la rottura con un passato che non ha dato granché all'Irpinia. Ecco, questa nuova classe dirigente del Consorzio di tutela, tutti i giovani, abbiamo ascoltato prima Ilaria Petitto, la vicepresidente, poi Teresa Bruno, non c'è soltanto entusiasmo, c'è competenza, ma dal mio punto di vista c'è soprattutto una diversa strategia. La strategia è di non promuovere singoli prodotti, singoli marchi tradizionali, ancorché alti e nobilissimi, ma l'intera filiera dei vini ilpini che è una cosa molto importante. Cioè finalmente il Consorzio, abbiamo un Consorzio di tutela dei vini ilpini che promuove il territorio d'Irpinia. E poi, oltretutto, dopo aver detto il Consorzio di tutela dei vini ilpini un no secco, ben motivato, alla proposta dal mio punto di vista oscena dell'assessore Caputo del marchio Campania per tutti i vini, oggettivamente vuol dire che questo Consorzio ha tantissima strada da fare.